Riprendono oggi le vaccinazioni presso il centro vaccinale Città di Agropoli. Inoltre si comunica che presso il centro vaccinale, sito in Viale Lombardia, di fronte al Cineteatro di Filippo, si terranno due diversi open day. Martedì 31 agosto dalle 15 alle 19 riservato alla fascia di età 12-19 anni. Venerdì 3 settembre dalle 15 alle 19 riservato invece agli over 50. Per ogni seduta saranno disponibili 300 vaccini Pfizer. Si accede senza prenotazione e l'iniziativa è riservata esclusivamente ai residenti dei comuni che fanno parte del distretto sanitario 70, ambito Agropoli, tra cui anche il comune di Rutino.